Grazie, buongiorno a tutti, faccio partire il timer così sono puntuale, ringrazio gli organizzatori di questo evento, in particolare Fabio Lugoboni per l'invito, la lettura che mi ha chiesto, il talk che mi ha chiesto, trascende un po' l'argomento dell'alcol, perché Fabio mi ha chiesto di fare una rassegna su quali sono, sulla stimolazione cerebrale non invasiva, ho cambiato un attimo il titolo, ma li avevo dato io, quindi me lo sono cambiato io all'ultimo momento, dall'evidenza della letteratura alle prospettive future. Dunque io faccio il neurologo, i neurologi utilizzano la stimolazione medica transcranica e la TDCS, la stimolazione cerebrale non invasiva per fare varie cose e partirò parlando dei meccanismi di azione di queste due metodiche, passando poi a razionale, l'evidenza delle prospettive future. Allora, quando noi induciamo con un coil da stimolazione medica transcranica un campo elettromagnetico nell'encefalo dei nostri pazienti, fondamentalmente utilizziamo la legge di Faraday, che probabilmente vi ricorderete quando avete studiato fisica, fisica dell'elettromagnetismo, che dice che se noi determiniamo una reazione di un campo magnetico e vicino ci mettiamo una spira elettrica, induciamo un campo elettrico in questa spira. La spira elettrica ce l'abbiamo perché sono gli assoni, sono dei cavi fondamentalmente, il campo elettromagnetico viene indotto qui. E quindi questa legge di Faraday che risale al XIX secolo aveva già ispirato una serie di persone che avevano provato a stimolare l'encefalo, Thompson, questi due signori qui e Darson Wall, e avevano ottenuto qualcosa. In realtà probabilmente questa esperienza non derivava tanto da una stimolazione della testa, anche perché qui stavano stimolando qualcos'altro, ma probabilmente dalla stimolazione di vari tipi di recettori. Il problema era la primitività della metodica. Ma di fatto ci... Next? Aspettate, perché non va avanti? Ok. Ci vollero, molti anni, arriviamo all'85, quando su Lancet questi autori, questo Barker, per la prima volta documenta di poter evocare una risposta motoria, un potenziale evocato motorio nell'arto superiore con uno stimolatore magnetico che di fatto è uguale a quelli che utilizziamo noi. Il coil è simile, il principio di funzionamento è simile, però ci vollero 150 anni dalla definizione della legge di Faraday, del principio di Faraday. Che cosa fa uno stimolatore magnetico? Fondamentalmente uno stimolatore magnetico è un condensatore, un capacitatore che accumula tanta energia elettrica, la fa passare molto velocemente in una spira, in un coil, in quello che viene appoggiato sul capo del paziente, inducendo un campo elettromagnetico molto veloce. Ci sono varie modalità di stimolazione, ci sono degli stimolatori monofasici, bifasici. Gli stimolatori che noi utilizziamo possono permetterci di definire se stimoliamo in modo monofasico o bifasico. Questo, per esempio, è un parametro che cambia moltissimo quello che facciamo, cioè la direzione della corrente indotta. L'altro concetto importante è che alla distanza dal coil, qui parliamo di centimetri, la intensità del campo magnetico, del campo elettromagnetico, si riduce molto velocemente e pertanto si riduce la possibilità che in un tessuto eccitabile sottostante si generi una corrente elettrica. Questi sono i principali tipi di coil, il coil circolare, il coil focale o a figura di 8, perché vedete che sembra un 8. Le caratteristiche sono diverse, uno stimolatore circolare, vedete, pur sembrando uno stimolatore che è più focale nell'azione, in realtà induce un campo elettromagnetico e quindi una corrente elettrica in un'area molto più ampia. Il coil a forma di 8 o a farfalla, invece, avendo due coil circolari che in alcune parti si annullano di fase, riesce a indurre un campo elettromagnetico e quindi una corrente elettrica in un'area più focale, che però non è tantissimo focale. Quindi il coil che abbiamo cambia completamente quello che stiamo facendo. Perché funziona la stimolazione elettrica transcranica? Perché noi andiamo a stimolare dei tessuti eccitabili, che sono tessuti corticali, non andiamo molto più lontano. Queste sono delle cortecce, questa è una corteccia sensitiva, questa è una corteccia motoria, quindi cortecce diverse hanno anatomia diversa e facciamo cose diverse in cortecce diverse, ma l'area più ampiamente esplorata, perché fondamentalmente lo stimolatore elettrico trascranico viene inventato perché ai neurologi serve calcolare un tempo di conduzione centrale per fare diagnosi di malattie come la sclerosi multipla o per diagnosticare altre patologie di sistema motorio. Nasce per questo, quindi non nasce per fare una neuromodulazione, quello viene dopo. E quindi l'area principale che viene stimolata e che studiata meglio è la corteccia motoria primaria, che vedete qui, è quest'area anteriore rispetto a questo solco che separa dalla corteccia sensitiva primaria e dalla corteccia motoria primaria. Nella corteccia motoria primaria i neuroni sono in profondità, sono quelli che generano il fascio cortico spinale, ma evatare la stimolazione magnetica trascranica induce delle correnti in questi interneuroni di cui sono ricchi gli strati più superficiali e quindi va a agire su una neuromodulazione di questi interneuroni. Spiegato molto velocemente, perché per presentarvi questa slide ci vorrebbero cinque minuti, noi andiamo con il nostro stimolatore magnetico ad attivare della circuiteria che è glutamatergica e gabaergica e ci sono dei studi che permettono di esplorare col doppio stimolo, per esempio, con intervalli di stimolo diversi, questo fenomeno di documentare che questo avviene e quindi noi non andiamo a stimolare direttamente gli strati più profondi, ma stimoliamo quelli superficiali che sono ricchi di sistemi di connessione, di interneuroni. È molto delicato usare un coil per stimolazione magnetica, perché se usiamo il coil focale, vedete che a seconda di come indirizziamo, di come pieghiamo il coil rispetto a questa linea tra naso e inion, cioè tra il naso e l'occipite, cambia completamente la risposta motoria e la stessa cosa succede ovviamente in un'area sensitiva o in un'area cognitiva come la DLPFC, che è quella che viene più comunemente stimolata nel trattamento delle dipendenze. Quindi dobbiamo sapere cosa stiamo stimolando, questi sono dei rendering di come cambia tantissimo, vedete che cambiando l'angolo cambia tantissimo quello che della cosiccia motoria primaria viene stimolato, quindi parametri molto piccoli come come tengo il coil in mano e come lo inclino modificano completamente ciò che stiamo facendo. Quando facciamo una stimolazione magnetica non per far diagnosi di un problema del fascio cortico spinale o di una malattia demonizzante utilizziamo dei protocolli di stimolazione magnetica ripetitiva che può essere convenzionale, molto semplice, diamo degli stimoli ripetuti a una determinata frequenza. Alta frequenza, scusate, bassa frequenza, un hertz inibisce la corteccia, alta frequenza eccita sopra i 3 hertz. Soprattutto inibì eccita a 10 hertz, le frequenze intermedie fanno un effetto intermedio. In realtà in molti studi sulla TMS ripetitiva nelle dipendenze si utilizza la teta burst TMS. Come è fatta la teta burst? È un protocollo di stimolazione magnetica patterned, cioè mentre nelle altre metodiche uno stimola, da un tot di stimoli alla stessa frequenza. Qui ci sono dei burst di stimoli e poi un silenzio e poi degli altri burst di stimoli. E in questi protocolli di solito ci sono 30 o 50 hertz, il solito 50 hertz, con un intervallo di stimolo di 200 millisecondi. Vedete come la faccenda si complica. E se noi utilizziamo la stimolazione intermittente nello studio originale di Wang, Neuron 2005, noi abbiamo un fenomeno eccitatorio, una plasticità che ricorda il potenzialmente a lungo termine. Se utilizziamo la continua facciamo l'esatto contrario. Dovremmo fare un'inibizione a breve termine, a long term depression. In realtà questo non è vero, nel senso che studi successivi ci dicono che il fatto che la continua sia inibitoria e intermittente facilitatoria accade in un quarto di persone normali. In un quarto circa accade l'esatto contrario, in un quarto entrambe le modalità sono facilitatorie, in un quarto inibitorie. Quindi il substrato, cioè la sioma che noi solitamente definiamo che la tetraburst inibitoria fa una cosa e quella intermittente e la continua fanno cose opposte, non esiste nel 75% dei pazienti che trattiamo. E questo è un dato un po' complesso, perché nell'area motoria primaria questo lo possiamo documentare, però non sappiamo cosa succede in altre aree, che sono quelle che noi stimoliamo facendo i protocolli che usiamo nelle dipendenze. Ovviamente tutto questo deve tener conto del fatto che nella contestia motoria primaria noi registriamo un potenziale vocato motorio, quindi quello che facciamo lo vediamo online e non abbiamo bisogno di nero stimolatore. Quando invece utilizziamo, o vogliamo stimolare una DLPFC o un'altra area tra quelle che solitamente utilizziamo nel trattamento delle dipendenze, dobbiamo utilizzare un aeronavigatore, quindi con un sistema di sensori che mettiamo sul coil e che mettiamo sul capo del paziente, in modo tale da vedere cosa stiamo facendo. Quindi è qualcosa di un po' complesso da usare. In tempi più recenti è stata proposta anche questa DeepTMS, che avrebbe il vantaggio di andare più in profondità. Vedete come è strutturato, ci sono vari coil, questi coil sono prodotti c'è solo un'azienda che fa questa macchina, sono prodotti e sembrerebbe, secondo la casa che li produce, che stimolino prevalentemente determinate aree cerebrali profonde. In realtà vedete che qui la stimolazione è più profonda, ma è anche molto più generica come stimolazione, stimola un po' tutto. A noi probabilmente non interessa andare a stimolare un po' tutto e andare più in profondità. Noi vogliamo andare a stimolare un'area precisa. Ci sono dei dati interessanti, vi farò vedere uno studio su questa metodica, però anche qui fondamentalmente ci vendono una cosa e dobbiamo fidarci di quello che ci dicono. Per quanto riguarda invece la TDCS, il concetto di base è più semplice. Fondamentalmente noi applichiamo una corrente con un polo positivo e un polo negativo, che chiamiamo anodica o catodica, e siccome, come abbiamo visto prima, molti neuroni sono disposti con un asse che va dalla superficie alla profondità, andando a depolarizzare o ripropolarizzare questi neuroni, cambiamo la loro eccitabilità. Concettualmente sembra molto semplice. E infatti gli studi più vecchi, in particolare quelli del gruppo di Paulus, ci dicono che con quella anodica aumentiamo la eccitabilità corticale e con quella catodica inibiamo. e che poi dopo qualche minuto l'effetto si riduce. Quindi anche qui sembra che la catodica inibisce, la anodica iper-eccita. Però dobbiamo tenere presente che noi non abbiamo sotto una corteccia che è dritta. La corteccia spesso ha dei solchi, ci sono disposizioni diverse dei solchi, e quindi noi in realtà abbiamo un po' di neuroni in cui quello che diciamo dovrebbe accadere perché noi li depolarizziamo, li perpolarizziamo, ma ce ne sono anche un po' che sono tangenziali e ci sono neuroni messi in altra direzione. E ci sono anche effetti spaventosi dovuti, perché sembra che la TDCS sia una cosa facile, attacco due elettrodi in testa al paziente, stimolo e succedono dei fenomeni. Però attenzione che la posizione di questi elettrodi, che sono molto più grossolani come effetto rispetto alla TMS, la dimensione, cambiano tantissimo quello che succede. Questi sono modelli di cosa sto facendo all'encefalo del paziente. Però vedete come cambia tantissimo spostando di poco i nostri elettrodi. E guardate gli effetti dei farmaci, che questi sono due dei farmaci testati, che cambiano anche quelli tantissimo la risposta. Quindi, di fatto, se poi andiamo a vedere nella real life cosa succede, quello che noi dicevamo, cioè che la nodica è facilitatoria e la catodica è inibitoria, succede in un terzo dei pazienti. In un quinto succede l'esatto contrario, in un terzo entrambe sono facilitatorie, in un 5% entrambe sono inibitorie. E il 50% dell'individuo praticamente non risponde, risponde poco alla TDCS. E anche qui casca un'asseoma su cui ci basiamo quando facciamo la TDCS. Ma detto questo, avrebbe senso utilizzare la stimolazione cerebrale invasiva nelle dipendenze? Sì, avrebbe senso. Perché? Perché, questo è un cartoon di un paper che stiamo preparando con alcuni miei collaboratori, il reward-related decision-making e il reward-related learning, che è il substrato di molte dipendenze, coinvolge una serie di aree cerebrali, superficiali, profonde, collocate in varie parti del nostro encefalo, che codificano aspetti diversi di questo processo e valenze diverse, quindi andare a manipolarle avrebbe un senso. Quindi c'è un substrato, c'è un razionale biologico di un trattamento di questo tipo. C'è anche perché questo è un lavoro di metanalisi di studi che hanno esplorato il reward-related decision-making alterato nei pazienti con dipendenza e vedete che le aree che si accendono sono a grandi linee quelle che sono coinvolte nei soggetti normali e che qui funzionano male. Quindi noi abbiamo un sacco di potenziali target su cui potremo mettere le mani. Questi sono i principali e la corteccia rotolaterale e profrontale è sempre la prima. Abbiamo varie modalità, la TMS, la TDCS, la DIP TMS, profondità diverse, effetti diversi, quindi una serie di potenziali strumenti. Abbiamo anche l'evidenza, perché lo sappiamo, che nella corteccia motoria primaria se noi stimoliamo con la TMS, con la TDCS e registriamo dopo l'iper-eccitabilità, possiamo avere un'iper-eccitabilità, aumenta il PEM, o un'iper-eccitabilità, quindi possiamo avere effetti inibitori ed effetti eccitatori. Però non è così semplice, perché? Perché in realtà la plasticità non è una cosa che tiriamo in un senso o in un altro ad libitum. Esiste una sorta di plasticità omerostatica. Più cerchiamo di cambiare il sistema, più il sistema non si fa cambiare. Cioè più il sistema tende a tornare alla normalità. Qui inibiamo, poi il sistema tende a tornare al livello di forza sinaptica precedente. Oppure la storia di quello che è stato fatto prima a quella parte del cervello, che non vuol dire solo abbiamo stimolato, può voler dire anche le esperienze, modificano poi la plasticità che noi possiamo indurre. Quindi in questo caso si parla di meta-plasticità. Cosa è stato fatto prima al sistema modifica la mia capacità di modificarlo. Quindi è parecchio complessa. Ma quali sono le evidenze? Ci sono delle evidenze? Il paper più famoso di revisione è questo qui, perché molti lavori ci sono, ma molti lavori sono fatti non in doppio cieco, qualitativamente hanno dei problemi. E questa review di qualche anno fa, che sicuramente conoscerete, perché ha messo insieme tutti i nomi più importanti in quest'ambito, ma è una review dove si capisce poco, perché banalmente non si capisce bene quanti di questi lavori sono in doppio cieco, quanti hanno un outcome assennato e quanti non ce l'hanno. Però documentano intanto che noi siamo uno dei paesi che produce di più in quest'ambito. Documentano che il target è assolutamente la DLPFC e fanno vedere che stimoliamo con un po' di tutto e con metodiche le più varie. Ora, nessuno di noi, quando dà un farmaco, dà un farmaco che aumenta la pressione, ma dà anche un farmaco che la riduce e lo dà ai dosaggi più vari. Se vogliamo ridurre la pressione, diamo un farmaco che la riduce a quel dosaggio. Se vogliamo aumentarla, cosa più difficile da fare, cerchiamo di dare un farmaco che la aumenta a un determinato dosaggio. E questo è un problema, perché stiamo facendo di tutto un po'. Le misure di outcome, vedete, sono le più varie. Cioè, bene, interessanti, craving c'è in una parte degli studi, però la neurofisiologia, sì, è bello, ma senza il craving ci dice poco. Le funzioni cognitive, ma la memoria, sì, ok, interessante, interessante, ma parliamo di dipendenza, non parliamo di premi cognitivi. E quindi, quando andiamo a vedere tutti questi outcome, ci confondiamo un po'. Questo invece sintetizza il tipo di patologia e la fase di malattia, quindi vedete che c'è un'eterogeneità spaventosa. Noi abbiamo fatto una piccola systematic review con alcune persone del mio gruppo e con Fabio, andando a focalizzarci su gambling, perché ci interessa, perché ce ne occupiamo nel Parkinson, che è una malattia che a me interessa molto. Io mi occupo probabilmente di Parkinson, sto facendo un neurologo. E abbiamo fatto una systematic review degli studi sulla RTMS e vedete che c'è di tutto un po'. Stimoliamo la corteccia dorsolaterale prefrontale sinistra, destra, la prefrontal cortex mediale, con protocolli di tutti i tipi, brevi, lunghi, sample size piccole, molto piccole, casi clinici isolati, outcome tra i più vari. Sulla TDCS sembra che ci sia più, ci sono meno studi, ma sembra che ci sia più uniformità, nel senso che fondamentalmente quasi tutti gli studi, che però vengono purtroppo da pochi gruppi, mettono l'anodo su quella che dovrebbe essere la corteccia dorsolaterale prefrontale destra e il catodo sulla sinistra, cioè fanno un montaggio F3 e F4, perché è tutto da vedere, se lì c'è veramente la DLPFC solo o se c'è dell'altro, e sembrano essere concordi nel fatto che questa metodica sembra funzionare. Se andiamo a vedere cosa dicono le linee guida, questi sono lavori mastodontici su tutto, per quanto riguarda la TMS, ripetitiva della TDCS, questo aggiornato 2020, questo meno aggiornato, e questi sono i massimi autori sulla stimolazione magnetica transclanica su la TDCS a livello mondiale, su quasi tutti i neurologi. Per quanto riguarda la TMS ripetitiva, non c'è nessuna indicazione di livello A e B, non andrebbe utilizzata nell'addiction. Per quanto riguarda la TDCS, sembra che questo montaggio anodo corteccia dorsolaterale destra e dorsolaterale prefrontale e catodo sinistra abbia un livello B di evidenza. Bene, la domanda è, ma cosa facciamo quando mettiamo due belli elettro di F3 e F4? Qualcuno ha provato a studiarlo e ha studiato questo montaggio F3 e F4 in 66 persone che avevano, di pensa, la metanfetamine. Andando a ricostruire con le immagini del loro cervello e valutando anche la teca cranica e il liquor, cosa stimolava questo montaggio? Ora, la DLPFC è un po' lateralizzata. Praticamente in nessuno di questi pazienti stimoliamo la DLPFC. In qualcuno stimoliamo la corteccia mediale prefrontale, in molti facciamo poco. E se noi andiamo a utilizzare invece un altro protocollo, l'F4 e F1, che è diverso, che quindi non ha evidenza in letteratura, facciamo una cosa molto simile. Se andiamo a vedere, se sentiamo una soglia di efficacia, andiamo a vedere i due sistemi di stimolazione e vediamo che cosa vanno a stimolare, non in termini di aree, ma in termini di sistemi, vediamo che con entrambi stimoliamo un po' le aree del sistema limbico, ma in molti casi la stimolazione è così bassa da non dare probabilmente un effetto. E non c'è molta differenza tra le due modalità. Quindi non sappiamo di fatto che cosa stiamo facendo e questo è un problema. Non è proprio uno scenario così sconfortante. Ci sono dei lavori, stanno cominciando ad uscire dei lavori, pochi, pochi, perché è una ricerca fatta negli ultimi anni, volevo dirvi, volevo portarvi qualche lavoro bello, fatto bene, mi è venuto fuori questo, che è un lavoro pubblicato, sono in vista di tutto rispetto, l'anno scorso, che utilizza una Deep TMS, ha degli outcome chiari, degli outcome che sono pazienti versus controlli, non degli outcome che sono pazienti prima e dopo il trattamento, che non vogliono dire niente, perché è ovvio che c'è un effetto placebo spaventoso e in molti casi succede anche col Coishem. In questo caso è chiaro cosa funziona, l'heavy drinking, è chiaro che il follow-up non ha effetto, nel follow-up non c'è efficacia e c'è un'efficacia a breve termine, è chiaro, quindi ci sono dei risultati chiari. C'è un razionale biologico, questo è uno studio di risonanza magnetica funzionale, dove si vede la connettività tra coppie di aree cerebrali che sembrano essere coinvolte nella dipendenza, in questo caso parliamo di dipendenza da alcol, è chiaro anche, c'è anche un modello di cosa stiamo stimolando, quindi c'è qualcosa di interessante. Concludo con le prospettive future. Allora, attualmente noi abbiamo un sacco di modalità per fare una stimolazione cerebrale in un'invasiva e ci situiamo qui, tutte queste non le ho menzionate, la TACS, la TRNS, vi menzionerò qualcosa con cui stiamo cercando di cominciare a fare dei modelli sperimentali con i colleghi dell'Istituto di Fisiologia, che è la Tascana Ultrasound Stimulation. Che cos'è? Fondamentalmente, invece di usare uno stimolatore elettrico, utilizziamo uno stimolatore a ultrasuoni. Praticamente facciamo una sorta di eco-transcranico, ma invece di fare quello che facciamo quando facciamo un'ecografia, cioè avere un'immagine come questa qui e cercare di dare meno energia possibile, diamo energia per cercare di modulare l'attività di aree profonde, con vari protocolli. Questo per esempio è un protocollo molto interessante, in cui c'è la TMS e la FUS insieme. La FUS è la Focus Ultrasound Stimulation, una TMS è un bel coil A8 come quelli che avreste visto prima. Si può fare una coattivazione, possiamo andare a vedere dove siamo, perché comunque se usiamo un ultrasound diagnostico, noi abbiamo un'immagine, e possiamo, è un lavoro che stiamo facendo con colleghi della Sapienza e l'Istituto Superiore di Sanità, cercare anche di avere un modello fisico di quello che si fa. Col modello animale, abbiamo la fortuna di avere un gruppo che lavora in fisiologia che fa questo. Infine, ci sono metodiche di stimolazione cerebrale profonda che si utilizzano, chiaramente io vi parlo di Parkinson, perché nel Parkinson si utilizzano, sono terapie abbastanza note, arcinote, ma si possono utilizzare anche nelle dipendenze e probabilmente c'è molto spazio per fare ricerca in questo ambito. Noi in azienda ospedaliera abbiamo la fortuna di avere anche uno strumento che fa lesioni con gli utrasuoni focalizzati e potrebbe essere utilizzato in alternativa alla DBS. Ci sono tanti punti di domanda. Punti di domanda neurobiologici. Che cosa stiamo facendo? Che cosa stiamo stimolando? Qual è la modalità di stimolazione ottimale di trattamento? Avete visto come cambiando la frequenza, l'intensità, come angolo il coil, come metto gli elettrodi cambiano un sacco di cose. Qual è l'effetto del lato trattato? E soprattutto abbiamo dei biomarker. Ormai negli ambiti dove la TMS giocano un ruolo chiave, la depressione resistente e anche l'Alzheimer, noi non mettiamo un coli in testa al paziente o due elettrodi in testa al paziente, perché sarebbe ridicolo questo approccio. Noi misuriamo delle cose, facciamo una risonanza metrica funzionale, facciamo un EG, e quindi andiamo a targettare con una determinata modalità di stimolazione una determinata area cerebrale sulla base di un biomarker che ci dice cosa fare. Nelle dipendenze dovremmo fare la stessa cosa. E poi problemi clinici. Che outcome consideriamo? I primary outcome. In molti studi non è chiaro nemmeno questo. Quanto deve durare l'efficacia del trattamento? E cosa è clinicamente rilevante? Quanto dobbiamo stimolare per avere una risposta clinicamente rilevante? Quindi, purtroppo, questo lo trovate con Google. Qui Brianza News, la stimolazione metrica transcranica permette di curare in maniera concreta le dipendenze di varia natura. No, non è vero. Le linee guida non dicono questo. I pazienti che hanno tutte queste cose hanno riscoltato un miglioramento concreto nel proprio stile di vita a partire da una settimana al proprio primo trattamento. No, non è vero. Non ci sono studi che dicono un miglioramento concreto. Ci sono studi che mostrano che un outcome cambia, ma tanti altri no. Quindi, lo scenario deve essere uno scenario serio per proporre ai pazienti qualcosa che non sia questa cosa qui. Questa bizzarra e simpatica signora, questo l'ho trovato su un giornale, non un journal, scusate, un newspaper inglese, e qui viene raccontata la storia di questa signora Miriam Hayburn, che utilizza questa cosa qui per questa signora pensionata del survey per farsi passare l'emicrania. No, perché se facciamo così diamo l'impressione che la stimolazione magnetica sia una cosa di questo tipo. Invece la stimolazione magnetica o la TDCS sono strumenti seri, la stimolazione magnetica di più perché permette, è più complicata da usare, ma riusciamo a modulare molto meglio ciò che facciamo, che vanno usati da professionisti seri con una competenza su ciò che stanno facendo e con dei biomarker. Questo è il futuro, altrimenti, scusate il termine, sputtaniamo la metodica. E questo non va bene, perché io ho incominciato a fare ricerca ancora un po' di anni fa sulla TMS e mi sono accorto ai primi tempi che usandola in modo grossolano il risultato era questo. Per fortuna adesso ci sono gruppi molto seri che in neurologia e nella depressione la stanno usando molto bene. Bisogna fare la stessa cosa nelle dipendenze. Grazie.